Benvenuti al Met di Tele Nuova, domani è sabato 11 luglio, la chiesa celebra San Benedetto, Santa Olga e San Fabrizio. Tutto sole, cielo terzo e azzurro su tutte le regioni, torna ad aumentare il caldo su gran parte del paese, 30-35 gradi al nord, 29-34 gradi al centro e fino a 35 gradi al sud. Dopo la breve pausa più torri dall'umidità dell'aria, torna ad aumentare portando caldo nuovamente a foso soprattutto dalla sera, poco da segnalare dal punto di vista meteo se non qualche isolato addensamento cumuliforme pomeridiano sui rilievi, con qualche temporale specie in Sicilia e locali annuvolamenti marittimi mattutini lungo le coste, temperature senza grandi variazioni, venti deboli variabili con mari calmi o poco mossi.